Sali così, ti voglio, dai, Roma, dai, dai! I perni si svitino con le pibili. Vai! Ma dopo il romano! Sì, ciao ragazzi! Cosa vuoi di più della vita? Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della Gravity School. Siamo in una location pazzesca. Siamo a Massa Marittima, esattamente là sopra c'è la Città Vecchia, e siamo alla Tenuta Il Cicalino, dove non faremo un video, come al solito, più sulla tecnica, ma vi faremo vivere l'esperienza di questo test bike Cannondale e di tutte le nuove moterra. Sì, queste montagne è vero. Beccati il trucco da pro che ha messo il nastro, così almeno non si sfilaccia il carbonio. E devo dire una cosa, non l'avevo mai usato. Ok, bravi ragazzi, respirate. Le compressioni, tu stai centrale, quando arrivi giù, schiacci e poi sali. La certa si molla, si sta centrale, mollo e l'accompagno giù. Grazie a tutti. Guarda me, se guardi la ruota, non vai avanti. Guarda lui, grande, bravissimo, va che roba. Lo prendo, lo prendo e scappo. Vai, tenso. Guarda lui. Guarda lui. apri i gomiti guarda la fine della curva sedere in fuori e non in dentro bravo non esagerare eh l'ho calcio abbassa i talloni verso il basso quando guidi usa bene l'anteriore in staccata eh non far partire il posteriore qua hai fatto la cappellata eh oh 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 che giornata alla fine siamo rimasti in quattro ma guarda che faccia i contenti guardalo qua guardalo qua il cross countrysta bella lì bella raga to'che sai voi si sono la vita to'che voi dì iti s'è la vita come si è nei to'che voi dì